Il corso People Analytics. Valorizzare i dati HR a supporto delle decisioni di business offre strumenti pratici per sviluppare una cultura data-driven in ambito HR, favorendo scelte strategiche basate su analisi precise. Integrando dati aziendali e strumenti digitali, consente ai partecipanti di comprendere e applicare gli HR Analytics, velocizzando i processi decisionali e migliorando la competitività. Rivolto agli HR Manager, il corso mira a potenziare le capacità di interpretazione e gestione dei dati, trasformando il ruolo delle risorse umane in un pilastro strategico per l'azienda. Puoi scegliere se seguire il corso in modalità interaziendale nelle date programmate oppure organizzarlo presso la tua azienda, personalizzandolo sulle tue esigenze. Entrambe le modalità possono essere finanziate con fondi impresa o fondi dirigenti.